E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui in compagnia della mia ragazza Violetta Ciao ragazzi E come vedete siamo qui su FIFA 14 per PS4 cari miei Ma oggi... Perché sono qui io? Come vedete ho un cappello da Babbo Natale Devi fare a Babbo Natale? Ma non perché è Natale, ma perché... Io non po' che cosa andremo a fare adesso, una partita... Vendato Mamma mia, ma che day c'hai avuto? Praticamente io dovrò indicargli le varie mosse da fare perché ovviamente lui sarà bendato quindi non saprà dove mettere le mani Sul joystick Quello è importante Vabbè insomma avete capito mi guiderà lei Vediamo un po' che succede Eccoci pronti, ovviamente ho scelto l'Italia perché almeno lei sa i nomi degli italiani e me lo dice Come avversari invece scegliamo una squadra al mio livello ragazzi Ovviamente visto che io non ci vedrò come squadra scegliamo la Repubblica cieca Così almeno un avversario alla pari Siamo pronti a iniziare questa splendida partita Ciecami Te lo metto un tellocchio, te cieco Non ci vedo niente Quindi mi devi guidare anche nei menu perché non ci vedo Ok Inizia Pronto Ok Siamo pronti, siamo caldi per iniziare Prima di cominciare ragazzi io come al solito ti ricordo di lasciarmi un bel pollicione in su per questa sfida maledetta E anche un commento dove mi salutate bella Dexter Questo perché E' sempre importante E' sempre importante Perché Youtube ha cambiato le sue priorità e quindi se non lasciate mi piace, commentate O condividete Rischiate di perdermi i miei prossimi video e le prossime sfide che si inventerà Violetta Non potete perderveli Premi il tasto option per giocare Ok Capito? Lo schifo no? Sto cominciando Chi ce l'ha la palla? Tu la palla, vai Vado? Ragazzi siamo pronti Ovviamente ho messo a livello pippa perché Non ce l'hai più la palla Come non ce l'ho più? Prenda, prenda Ora ce l'hai tu Ok, ora chi ce l'ha? Dove devo passare? Dove devo andare? Devi andare a sinistra Ok No dai Chi... Chi... Dove siamo? Chi ce l'ha la palla? Avanti, avanti Ce l'hai te, avanti Però stai attento che ci sono volita Ok, allora la palla L'hai passata Ma no! Ora ce l'hai tu? Tu non ce l'hai più Ce l'ho o no? Chi ce l'ha la palla? Fuori La devi lanciare Ok Ma chi ce la lancia? Vai Vai Ora ce l'hai tu Attento che sono davanti Vai Sei vicino alla porta Ok tiro Però sei di lato Ho tirato Chi l'ho segnato? Non l'hai tirato Allora E gli lato me l'hai passata un avversario Ah, ottimo Prendi Insomma, come sta andando? Come sta andando questa partita? Insomma La devi tirare Come la devo tirare? Stava fuori Ok Ok, ce l'hai Dove ce l'ho? Non ci sto camminando Tra i piedi Tira Ok, tiro Ho segnato Hai tirato No, l'ha parata L'hai tirata di testa Di testa? Vabbè Cosa incredibile ragazzi Addirittura di testa Ho tirato Ma veramente di testa Vabbè Aspetta un attimo Come aspetta un attimo No ragazzi No Che cosa è successo? Non ero i rossi I rossi Vabbè sta fuori No Oddio Sta fuori Ma è stata talmente Che seri sbagliati Ho capito Che quella è una repubblica cieca E so ciechi Però io so l'Italia Che so cieco lo stesso Però so l'Italia Chi c'era la palla? Guarda c'erano gli azzurri Allora dall'altra parte Non bisogna andare Mi sto sentendo male Ma dove dove Io dove dove attaccare A destra o a sinistra? Ti hanno rubato La palla Io devo attaccare a destra? A destra Ok Non ce l'ha Ecco l'ha presa Però non ce l'ha nessuno Vuoto Devi cercare di prendere Dai pirlo Che si chiamano pirlo? Eh lo so che si chiama pirlo L'ha fregata la palla o no? No E ora ce l'hai tu L'hai tirata un po' Vai tira Ho segnato? No perché ce l'ha presa un altro Ce l'hanno gli avversari adesso Eh ho capito Cerca di prendere Eccola Te l'hai Vai No l'hai lanciata però Ma come l'ho lanciata? Chi ce l'ha ora? È l'avversario Fa qualcosa Avanza Dai cerca di fregare io Ok mo gliela frego Mo gliela frego Vai vai dritto Dritto? Sto andando dritto Io l'ho fregata? No a sinistra adesso A sinistra Ecco c'è la palla No perché la tiri subito? La prendi e la tiri No da fuori Ora chi ce l'ha? Ora il portiere Deve tirare Ah vabbè ho fatto un tiro però Sì tiro in aria Prendila Presa? No Vai Ok Dove Da che parte del campo sto? Sei verso l'avversario Ok Stiamo pressando Ma come è verso di me? Come fanno un gol? E ora sei di nuovo Dalla parte degli avversari Beh è tirato eh però Troppo lontano Ma tu quando prendi la palla La tiri subito Ma te non me lo dici Quando prendi la palla Mi devi dire la piano Mi devi dire quando c'ho la palla Così almeno la posso passare A ai giocatori A balotelli Che mi fa il gol Ma tu perché quando la prendi La tiri subito? Perché sbaglio tasso Ah ecco Non è colpa mia È verso il centro Sta andando questo Non mo Sta andando giù Ok Vai L'ho presa? Eccola si l'hai presa Ok mo chi c'era la palla? C'era un altro tuo amico Come si chiama? Si chiama Osvaldo Ok ora chi ce l'ha? Ora ce l'ha l'avversario Ma no Ce l'hai tu ce l'hai tu Tira Tira vai vai Tiro chi è? Ho segnato No Dove è andata la palla? È un po' sopra La tirata Quella tirata? Quella di Fiorentina Quella della Fiorentina Eh Lei è la della Fiorentina Ma chi? È uno straniero Non so come si chiama È uno straniero della Fiorentina L'hanno inquadrato Descrivimelo C'è chi azzurri Montolivo Forse sì Dai C'è la palla Con chi? Copirlo Ora? Ora non c'è nessuno Ora c'è l'avversario Dai dai Vai su Vai su Su ok Sto andando Ecco c'è la palla Vai Ora chi ce l'ha? Ora c'è la Eh non so C'è la cosa C'è la cosa che C'è una pubblicità C'è una pubblicità Una pubblicità Ma che è? Mettete ad bloc Chiamate Zeb Che vuol dire? Vabbè c'è l'inquadratura gigante Di un calciatore La pubblicità Ma quando hanno messo la pubblicità nei giochi? Vabbè C'è la palla C'è la palla Con chi? Chi è? Chi sono? Non c'è più Non c'è più che Sparisce Un mago Che succede? Sei andata fuori Dai L'ho presa Gli ho fregata Guarda un po' su Ecco c'è la tua C'è la tua E pirlo Sempre pirlo Vai pirlo Passaggio Barotelli Barotelli tira No Non c'è la più Barotelli C'è la cosa Ma Ma loro Mi stanno a segnare Mi stanno a attaccare Cosa Cosa Che è l'attaccante Guarda che modo segnano Ecco bravo Crescito 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 Non segnare La squadra tua Ma come hai messo a fare Autocolle? Spazza sta palla Spazzala Spazzala Non ci vedo Mi devi dire Che dove la Aspetta Dove siamo? Dove siamo? Dove siamo? Ecco Ok ha calciato Ha calciato Sì Non è tornato indietro Come è tornato Di già Non l'ha presa Barotelli di testa Dai Dove è la palla? Perché ne so Se no sei te Io non ce vedo L'avversario Da destra L'ha presa La parata buffona Ok Ce l'ha buffona Ora la palla Ce l'ha buffona Devi tirarla Ok Ora la tiro La sto tirando L'ha tirata? Sì l'ha tirata Dime se la prende Balotelli E la prende Che hub ci manno Sì E non mi interessa Ce l'ha Eh no Dime quando rimane Vai prendigliela L'ho presa? Frega gliela Frega Sì Balotelli Balotelli Dime quando tira C'è la Balotelli Ti faccio un miti Tiro Ho segnato No l'ha parata Ma porca mi sei Ho pure fatto il drift E' mai lontano Ma ti ho detto Quando sto vicino alla porta Ma perché poi Te la fregava All'angolo Ma dove stiamo? In alto? Dalla parte tua Dalla parte mia Sì infatti Ma ti segno Dai che ce l'hai tu la palla Spazzola Dai ce l'ho a Montolivo Dai che la tira All'avversario Finito Che è finito? Il primo tempo Stavano tutti a prendente caldo Ok siamo pronti ragazzi Già che non ho preso gol Perché Buffon è bravo Ma come Buffon Stava a segnare Guarda ho fatto 5 tiri Pronti per il secondo tempo Ok iniziato il secondo tempo Chi c'era la palla? C'era Buffon Ma come? Già mi stavano a segnare Eh oh Ma se tu non stai attento Io non sto attento Dove sta? Dove sta? C'era tu C'era Balotelli Ora ce l'ha Osvaldo Tiro Non ce l'ha più Ma come non ce l'ha più? Frega gliela Vai sprendigliela Ecco Cerca di prendergliela Vai Ora ce l'hai tu Ok ora Ora è tirata Non ce l'ha L'avversario Allora non ce l'ho Che è? Una magia Dai frega chi è la palla Stai tu Ecco Bravo Che ce l'hai tu Che ce l'hai tu? Ce l'hai tu Ce l'ha Abate Ah ok Sto sotto Ora ce l'ha Montolivo Dove sta sopra C'era non ce l'ha fuori Eh sì Pensavo di stare sotto Aspetta che te lo dico No? Che miseria Dai cerca di Ecco frega ieri Bravo Ce l'hai tu Ce l'hai tu Ok co chi? Ce l'ha Pirro Ora ce l'ha Osvaldo Dove? Eh lanciata Dove aspettarla Lanciata Ma è di da solo Eh va dimmelo Così segno E tiro Ma è tirato al cazzo Centro Verso Verso Buffonna Ma no No Verso buffonna Vai vai Chi è? Chi ce l'ha? Ok l'hai tirata via Dov'è l'avversario smarcato? Aspetta ce l'hai tu Dov'è l'avversario smarcato? C'è la Balotelli Vai 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 Che devo fare? Anda davanti No te l'hanno fregata Tio Te l'hanno fregata Ma come l'hanno fregata? Dimmi qual'è l'avversario smarcato? Marchisi Marchisi C'ha la palla Ora l'hai tirata L'ha tirata l'avversario però Dai c'è la Balotelli Tiro? No non ce l'hai più Vai che ce l'ha pirlo Tiro Tira Tiro o no? Chi c'ha? No aspetta Lo svaldo Ma non so perché Ho tirato C'è stato un errore Come c'è stato un errore? Hai scoppiato il gioco Che è successo? C'è il replay adesso Ma perché c'era la striscia rossa e gialla Non lo so La striscia rossa e gialla Che è? È passato È oltrepassato il limite Non lo so Oltrepassato il limite Della demenza Con questo video È ricominciato È ricominciato Dai che ce l'hanno Guarda che ti sono per attaccare Dai Montolivo Vai Balotelli Tiro Tiro Ma dove tiri Che sei in metà campo? Ma dimmelo Di passarla Tu dici solo tiro Tiro Non è da fuori No sei al centro Sei al centro campo Ok Ce l'hai tu Ok Ce l'ha Marchisio Ok dove la passo? Dai che ce l'hai tu Tira la palla Che ce l'ha lo sbaldo Tiro Tira Tiro No L'ha presa L'ha presa il portiere L'ha parata Però l'ha tirata male Sono verso Buffon No No verso Buffon No Cerca di spostare Dai l'ha presa Buffon Grande Buffon Vai tirala No perché l'ha tirata? E chi l'ha tirata? L'ha tirata fuori campo E Buffon non è più Ma no Buffon Un altro l'ha tirata fuori Tu Chi c'era la palla? Stava al campo Stava all'angolo Ah no L'ho segnato No Dimmelo prima Che è l'angolo Dimmelo prima No È stato un attimo Eh ho capito Ma dimmelo che era l'angolo Così premevo il quadrato Per buttarlo fuori Ti stavo dicendo Che era l'angolo Devo segnare Che vergogna Guarda Dai Ce l'ho sbaldo C'è il centro campo Con lo sbaldo Ora faccio tutte le finte Vai Tiro Non c'è nessuno davanti Tiro No Te l'hanno fregata Ce l'hai tu Ce l'hai tu Ce l'hai tu Ce l'hai tu Non ce l'ha più Perché ha passata Eh ma dimmelo prima Vai ce l'hai tu Ce l'ha Osvaldo No Bonucci Osvaldo Bonucci Chi ce l'ha? Bonucci Non ce l'ha più Manco Bonucci Chi ce l'ha? Ce l'ha l'avversario Vai fregagliela Bravo Ora? Ora ce l'hai Barotelli Però l'ha passata Tiro Aspetta che c'è Che c'è Dove siamo? Aspetta c'è una bella ripresa Che saranno a fa Ma di che? Ah Sarà a fa un film Sempre Sce giallorosse Dai che sono Perché vogliono segnare Togli la palla Che ne so qui Ce le scivolate Dai Fregagli la palla Le ho fregata? Si Ne è passata Ce l'ha Montolivo Vai qui Ora? Chi ce l'ha? Ora ce l'ha Osvaldo Ora? Ora sei in mezzo La gente però Ti passo No aspetta perché Fuori gioco Ancora Un'altra volta Che dove fa? Montolivo Fa sempre fuori gioco Leviamolo Che cazzo Non ci sto capendo niente Chi ce l'ha? È finita la partita Com'è finita la partita? La partita è finita L'abbiamo perso C'è stato un delirio C'è stato un disastro Allora cari miei Suggerite per favore a Violetta Cosa devo fare la prossima volta Cosa dire Come suggerirmi al meglio Perché non si può andare avanti in questo modo È stato un disastro Il disastro più totale Disastro più totale Non so che dovevo fare Spero che il video comunque vi sia piaciuto Io vi ricordo come al solito Lasciarmi un bel pollicione in su E ditemi se volete la rivincita ragazzi La rivincita da ciecato Magari prendiamo l'India Al posto della Repubblica cieca Sicuramente un goletto riesco a farlo Ci hanno segnato Che vergogna Per favore scrivete Come posso fare Come può fare Violetta suggerirmi meglio E ovviamente fatemi sapere anche se volete Un'altra partita da bendato Su FIFA 14 Ragazzi iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E andate a visitare anche la pagina Facebook Che trovate in descrizione Noi come al solito Mi mandiamo un abbraccione Un salutone E ci diciamo gente Ah ragazzi Questo video è uscito insieme A le caratteristiche Di FIFA 14 Su PS4 Che trovate qui E vi invito a cliccarci E andare a vedere anche quest'altro video Oggi sono qui a presentarvi Le 5 cose più odiate In Ghost Perché non è possibile che io Ogni volta che cerco Di raggiungere l'obiettivo avversario Entro nell'obiettivo E mi teletrasporto morto Perché c'è un dannatissimo camper Che mi spara Se nella squadra avversaria Troverete un nemico Che utilizzerà l'esplosiva artigianale Potete dire pure addio Alla vostra sanità mentale